ciao ragazze bentornate nel mio canale stamattina mi sono svegliata così allora ho pensato di provare i prodotti di madame beauty ok io ho già preparato l'unghia l'ho già pacizzata e tolto le cuticole allora mettiamo il suo primer che il suo primer è funziona anche come base allora scarichiamo un po il prodotto perché sennò è un po troppo eccoci qua fatto ok lampada 30 secondi a dopo uscita dalla lampada mi sono già messa la cartina io ho un'unghia molto storta per cui ho dito proprio che è storto per cui ho messo la cartina diritta seguendo la linea dell'osso come mi è stato insegnato adesso ho visto che siccome mi ha dato sia il builder che che è un costruttore che è un monofasico io vedendo alla densità dei due gel questo è piuttosto liquido preferisco utilizzare per fare la mia struttura questo qui che è il builder per cui faccio la struttura e ci vediamo dopo preparata la struttura faccio una mandorla piccola non sto lì a fare le mie lunghissime perché sono sarebbe troppo lungo il discorso vado in lampada 60 secondi lo levo prima per pinzarlo vi faccio vedere la pinzatura ok finisco di catalizzare eccomi uscita adesso come bombatura volevo provare a utilizzare questo qui che è un monofasico che è leggermente rosato metto faccio la bombatura poi va di lampada ve la faccio vedere vi faccio vedere un po come fa come si lavora questo gel che abbastanza come posso dire liquido no di media densità però devo dire che si lavora benissimo perché io ho messo una pallina il centro e poi la sto sistemando un po sulle cuticole vedo che comunque non nonostante sia di media densità non si muove sta lì controlliamo la bombatura calcolando che poi questa è una mandorla comunque poi la limiamo dopo eccoci ok vado in lampada a dopo eccomi qua allora fatta limata beta così per me un po piccolina però era per farvi vedere adesso apro questi due colori che mi ha dato vedo quello che mi piace di più e poi lo metto su questi sono i due colori azzurro pastello rosa fragola mi piace tantissimo rosa vado per quello ok procediamo con la stesura del colore vediamo un po tenete sempre conto che io sto con la sinistra e per cui non essendo mancina sto facendo del mio meglio allora vedo che comunque è un colore che copre veramente tanto non andiamo sopra le cuticole eccoci andiamo in lampada 30 secondi e ci vediamo dopo faccio una seconda passata perché a me piace molto carico è un bel colore e dopo vi faccio vedere come è in lampada eccoci qua fatto che sembra dal video posso noto che sembra un rosso ciliegia ma non è così vi faccio vedere lampada come 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 si vede guardate si illumina è troppo fuori adesso finisco poi ci vediamo per il sigillante eccomi questo è il risultato adesso apriamo il sigillante che ricordo che è in barattolino ma è senza dispersione per cui apriamo lo piano vedete è molto liquido perché essendo senza dispersione allora prima sporco siccome è un pennello nuovo lo sporco un po' eccoci vediamo un po' eccoci vi ricordo che quando mettete il sigillante dovete sempre guardare sotto la lampada che deve essere tutto uniforme non deve essere né troppo abbondante e ne troppo tirato deve essere una giusta quantità guardatelo sempre bene che non deve avere buchi o bombature insomma come in questo caso che di qua ne ho messo troppo lo tiriamo non mettiamo la giusta dose facciamo bene le punte perché così non si scheggiano ok mi sembra che vada tutto bene ok mettiamo ecco mettiamo a fuoco vedete che va tutto bene andiamo in lampada 120 secondi a dopo ragazze ecco questo è il lavoro finito l'ho appena tolto come vedete non un'appiccica per cui vuol dire che senza dispersione ci metto l'olio giustamente io non sono una cima a fare le strutture però spero che con questo video vi sia stato utile per capire come sono questi prodotti di madame beauty a me sono piaciuti tanto ringrazio ancora ringrazio ancora iliana che è stata molto gentile questi sono i prodotti che ho usato il primer che funziona come base con questo ho fatto la struttura questo ho fatto l'abbondatura e questo è il colore lo faccio vedere io ringrazio ancora questa ragazza se volete se avete bisogno domande o richieste sono sempre qua ciao a tutti i ragazzi